Salve a tutti ragazzi, benvenuti qui da Don'ty su una nuova parte di The Walking Dead Quindi riprendiamo Barattolo Accampamento Che diavolo Benzina Ok, avviciniamoci Ok Non vedo un cazzo? Sembra vuoda Ok, ok Io intanto do una controllata se il gioco me lo può fare Ok Madonna, la musica di tensione Clear Ok Beh, lo penso anch'io Va buona Bottiglia Vediamo Visto i tempi Per la barba di merdino Il bollitore C'è del fumo Però c'è del fumo Scatola Senza mani Senza mani Empty Empty Cazzo Cazzo Vediamo Nuffin Ma vuoi, c'è non c'è un cazzo Alla dentro ci sto a lui, ancora Forse non me la faccio Oh oh Scatole Save Lots Che sono? Non c'è come fruta E Chapци Sarei quindi sei Cazzo La scatola che viene dalla Fattoria Ok Př Bundestag E' stry Di Oh Ai Una... cosa è? Videocamera Videocamera Ah, geniale Esatto Adesso Buono come la merda Carrello della spesa Adesso possiamo esaminare la tenda Se n'è andata Che c'è? Che ti guardi in giro? Quiglietto Magari avevano dei bambini Sacco a pelo Questo è il cappello di Galentina Cosa? Giolene Tu che cazzo sei? Che affanno? Cos'è? Cos'è? Sì, ma mi stai puntando una palestra No, finchè mi punti una palestra E se lo faccio prima io? E se lo faccio prima io? E se lo faccio prima io? Sì, sì Fa un culo Fa un culo Vai a cagare Non me ne fotte un cazzo Stavo per sparare sta merda Vai a fare il culo Schifo No, è una sega Un po' che cazzo ci faccio? Il cappello di Galentina lì Un po' che cazzo ci faccio? Per il cappello di Galentina lì Tutto il cuore Un'altra cosa E' un buon scelto E' un buon scelto E' un buon scelto Una cosa E' un po' Siamo tornando? Se non sono qui Non so dove sono E' una buona idea Se non sono tornando Perciò perciò Quindi sì E' un po' Una volta che si vanno questo E perciò si E' un po' E' un po' Che cazzo Che cazzo Come on faceva tutta la furba ti impianto questo nel culo bla 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 uomini cattivi siete delle merde vai a fare un culo adesso sei anche morto schifo ripeto queste sono scelte che farei anche nella vita reale quindi sarei un assassino sono un assassino ho capito ho fatto fuori quella cagna pazza però avevo le mie ragioni si può sparare a lili o a suo padre non so c'è la possibilità in questo gioco per coloro che l'hanno giocato non fumare il formato come al solito dolito beh banca emily non sbagliare il tuo cuore su quei bandati sono scusate che hai visto più violenza che avevo pensato nel tuo tempo短e ma tutti sono sicuri qui non preoccupate nemmeno questo non sbagliare troppo la cena sarà pronta prima di sapere e grazie al tuo amico Coch ancora per me lei e i figli sono nella città con il culo che adesso si può entrare nel ferire si può entrare? oh forse forse si può entrare e mi chiude cosa? perchè chiudi? andiamo ad andare al cappello a clementino perchè sta donna aveva il cappello? chi era questa donna? avrei potuto chiederlo quello si però cioè non lo so l'avete visto anche su The Wolf Among Us cioè non sono più non sono tipo da parole lunghe chi sei che cosa vuoi bla 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 cioè tu mi rompi il cazzo? c'è l'opportunità di prenderti a legnare o di spararti? beh venga se tu mi spari io te sparo eh cioè nel senso scusate la tossa oh una mucca è ok clementine tu puoi ammettarla è ok va bene cosa fa? mi chiedi il permesso? cosa? non ti fidi di caja? wow caccia dice che Mabel potrebbe avere un bambino oggi vedremo clementine cos'è? cosa è questo? Danny ha detto che si chiama un salto si ma non ti ricordi perché è grossi come fai? ti ricordi? non lo so ma che schifo ma che cazzo che cazzo lecchi Andy vabbè no eh eh vabbè 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 come sta la mucca essere sincero nella condizione in cui sono adesso cioè secondo me ci sono altre cose più importanti duck che mi dici? no 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 come il manure cosa è il manure? no 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 che cazzo? i bambini? cosa? cosa? non possono scherzare? non possono ridere? lentine il capello qui clementine mia cappa! Ho trovato! Yeee! Ho capito che lo trovi Capito? Ho passato il braccio perchè ho passato una cosa dietro il corpo No Cosa? Probabilmente niente Mi sapete se mai vedete qualcosa di così Ok, lo vedo Hai pensato che mai avrai figli? Mi piacerebbe Un giorno, magari una piccola donna come te Oh, Clementina Wow, grazie per trovare la mia hata Tu sei benvenuto. Vuoi aprire la caccia con me? No, ma vai qui Che uomo Che cazzo, ma dovunque Dovunque, ci stiamo dilungando No, non ci stiamo dilungando Possiamo continuare No, basta Porta della stalla, vediamo Che c'è qua dentro Un cazzo E penso che comunque sia anche nelle altre stalle C'è niente Che è sta roba? Si può entrare, vai Mmm Cosa? Kenny Che cazzo? Che cazzo? Beh Ma che c'è Kenny? Non capisco, nascondono qualcosa? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo potlo Che cazzo che cazzo? Esatto Vediamo, ma dobbiamo aprire Cosa? Che cosa c'è? Ma cosa? Allora tutti quelli della Provida sparano stronzate Il tipo con la buca Attenzione Eeeh Ah Perché? Cosa nasconde? Ok, cazzo lo nascondi Dobbiamo scoprire cosa nascondono in questa porta Però da quel che ho capito dovremmo distrarli e trovare Eeeh Kenny ha detto di trovare tipo una cosa per svitare ste viti Se non ricordo male Non ricordo male fuori C'era una sorta di Di valigetta per gli altrezzi Quando Per lo strato il luogo Magari intanto andiamo a prendere quella roba Poi dobbiamo distrarli Oh 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 Che schifo Ma che faccio però Che schifo nonna Quindi intanto Intanto andiamo a prendere Magari un giravipi Ecco vedete c'è la cassetta lì Usa La cassetta degli attrezzi Vediamo che cosa Che cosa riusciamo a trovare Ah Ok Attrezzo multiuso Prendilo Ma come cazzo faccio a distrarlo Scusate C'è Ma Una rigenzione elettrica Non penso che ci possa fare qualcosa Generatore Usa Che cazzo ti ha fatto il generatore? Ma possiamo spengere? Possiamo spegnere Oh Guarda il pannello Apri il pannello Usa l'attrezzo multiuso sul pannello Ok Ok Usa l'attrezzo multiuso sulla cinghia Porco 2 E' Vabbè si Dovevo spegnere Scusate ho sbagliato Ok toglilo Ah su Abbiamo scoperto subito Forse C'è Si fa cosi Non lo so Ok Quello è uscito Ok Quindi adesso possiamo andare a Possiamo andare a vedere cosa c'è dietro Magari C'è Svitando le vite Magari riusciamo a capire Cosa 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 nascondono Se nascondono qualcosa Però Cioè mi sembra una persona per bene Prima che succede Cioè Prima che Kenny si insospettisse Che comunque lui ha detto Allontratevi dalla porta Quindi qualcosa nascondono Ma cosa? Che cazzo succede? Soprattutto cosa cazzo nascondono? Kenny Ho trovato un molto attrezzo Ok niente vi può fermare Andiamo Andiamo veloci Prima che ritorna Usa la porta Usa la porta Va benissimo così Ok E ora? Mi lasci qui da solo Kenny Cazzo Kenny Che cazzo nascondono? Oddio Usa la porta Sbagliato Cazzo Scusate No ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Vai Madonna mia C'ho l'ansia Che cazzo nascondono qui? Ma scopriremo cosa nascondono Scopriremo cosa nascondono Nel prossimo episodio Quindi io spero di questo video Vi sia piaciuto Se fosse così lasciate un commento Mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo Alla prossima video di The Walking Dead Ciao a tutti ragazzi Adesso scopro che cosa c'è Ciao a tutti Ciao a tutti